I posti verso i quali debbano navigare i nostri giovani in un certo senso li indichiamo noi, dovremmo indicare noi. Questa è una contraddizione tipica del mezzogiorno, la popolazione del sud e poi in Campania ancora di più è la popolazione più giovane rispetto al resto del paese e gli economisti dicono giustamente che una popolazione giovanile è più favorevole allo sviluppo dell'area, è chiaro una popolazione fatta di anziani non è favorevole allo sviluppo, allora questo è un punto di forza del meridione, il fatto che sono più giovani, però la contraddizione è che li lasciamo poi disoccupati oppure che addirittura se ne vanno, vanno a cercare, qui e quindi bisogna cercare di valorizzare il ruolo dei giovani. Come si valorizza il ruolo dei giovani? Secondo me c'è un problema di cattiva connessione tra la domanda del lavoro e l'offerta di lavoro, in altre parole si offrono lavoratori che non hanno la preparazione, il tipo di preparazione che è richiesta dall'impresa, in questo senso non c'è incontro tra domanda le offerte di lavoro, quindi il problema della formazione, il problema anche dell'accompagnamento al lavoro, fate queste cose qua, studiate queste cose qua, sono quelle che chiede il mercato, se non si fa questo purtroppo cadiamo in quella contraddizione.